Musche, provincia di Belluno. In questa verde frazioncina del comune di Cesio Maggiore abitano appena 300 abitanti fieri di ospitare lo stabilimento dove vede la luce viene messo a stagionare il più famoso formaggio locale, il piave. Un prodotto che fino a 30 anni fa era conosciuto solo tra queste valli e che oggi invece è ben noto oltre i confini del Veneto, tanto che se ne realizzano ogni anno circa 350.000 forme. Qui ci troviamo a Busche nel magazzino di stagionatura del formaggio piave DOP. In questo momento abbiamo circa 200.000 forme in stagionatura proprio perché il formaggio piave è un prodotto duro da stagionare con una media lunga stagionatura che va dai 60 giorni all'anno intero di stagionatura. A seconda del tempo passato a riposare tra queste scaffalature il piave assume consistenze, sapori e nomi diversi. La stagionatura del formaggio inizia subito dopo la produzione e ha diverse fasi o meglio ci sono diversi tipi di formaggio piave, diverse stagionature che possono essere riassunte in tre stagionature. Il piave fresco tra 20 e 60 giorni, poi c'è il piave mezzano a seguire il piave vecchio oltre sei mesi. C'è un tipo particolare di piave vecchio che chiamiamo piave selezione oro che ha un anno di stagionatura, viene garantito un anno di stagionatura. Il piave è una vera tipicità locale per produrlo, infatti si utilizza solo latte proveniente dalla provincia di Belluno e per almeno l'80% da razze bovine tipiche di questo territorio come la bruna italiana, la pezzata rossa italiana e la frisona italiana. Il formaggio piave si caratterizza e ha la sua unicità, la sua differenziazione proprio partendo dal latte. Il latte che proviene, come dicevo, dalla zona montuosa ai piedi delle Dolomiti e quindi in una zona dove c'è presente il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Qui viene raccolto il latte che è un latte particolare con delle caratteristiche e dei valori nutritivi molto diversi da quelle che troviamo in altre zone d'Italia. Per questo, oltre ai fermenti particolari che vengono utilizzati nella produzione del formaggio piave, questi sono i due elementi fondamentali che differenziano il formaggio piave da altre produzioni casearie. Ed è proprio grazie alle particolari metodologie di lavorazione e alla bontà delle materie prime che il piave ha ottenuto la certificazione DOP, un acronimo che sta per denominazione d'origine protetta e che rappresenta il massimo riconoscimento della comunità europea per i prodotti alimentari di qualità. La qualità è il principio sul quale si basa tutta la produzione del formaggio piave, partendo dalla qualità del latte, al controllo poi di tutte le fasi del processo produttivo fino alla stagionatura. Che cosa significa? Significa che tutto il processo viene controllato e può essere tracciato fino a conoscere da quale stalla arriva il latte utilizzato per la produzione di una determinata forma di formaggio. Questo è ovviamente necessario per rispettare il disciplinare di produzione, che sono nient'altro che le regole scritte da rispettare perché il prodotto possa essere marchiato dopo. Ottimo da consumare fino a se stesso, il piave è un formaggio versatile che in cucina può essere utilizzato come base per gustosi antipasti, primi e secondi piatti, da accompagnare immanchabilmente ad un buon bicchiere di vino. Grazie per la visione!